Qualcuno non ha capito bene che te non ti sei cagliato con il PD, per capire perché non ci siamo neanche, dentro quello che dobbiamo fare. Saremmo morti se si possa raggiungere il PD, se si possa raggiungere. Oggi noi abbiamo una credibilità che è un battaglio assonato, la loro partita di vita è quella che deve seguirci e ci rendicare strada in campagna elettorale. Vi chiediamo una mano importante per gli europei. Mai, come quest'anno, le elezioni europee sono delle elezioni politiche, sono importanti per cambiare l'Italia e l'Europa e per poter costringerli a inviare nuove elezioni che speriamo, ma questa è la linea politica e il concetto che abbiamo definito, ci porteranno al governo della Repubblica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.